Alla vigilia dell'Immacolata, Potenza accoglie l'atmosfera natalizia. Sabato 7 dicembre, Piazza Prefettura ha aperto al pubblico i mercatini di Natale 2013, evento giunto alla sua quarta edizione. Presenti al taglio del nastro, il sindaco Vito Santarsiero e l'assessore alle attività produttive e turismo, Luciano De Rosa, i quali hanno salutato i singoli espositori a giudicatari degli spazi ed inseriti in apposite gradatorie. Abbiamo operato con dei bandi in assoluta trasparenza e il risultato è avere non soltanto la serenità di Chiopra ma anche la qualità dell'offerta che viene messa in campo. I mercatini di Natale sono al quarto anno, rappresentano ormai un momento che caratterizza il nostro Natale ma rappresenta anche un'opportunità per i nostri artigiani e per i nostri commercianti. Il nostro centro storico sempre più a Natale rappresenta un vero e proprio attrattore. La rassegna ripropone l'affascinante format delle annate scorse, dalle produzioni artigianali in sintonia con il periodo natalizio ai prodotti enogastronomici d'eccellenza della Basilicata. Presenti 17 stand riservati alle imprese o società iscritte alla Camera di Commercio, alcuni dei quali commercializzano prodotti enogastronomici ed obbisti. Aperti fino al 6 di gennaio osserveranno il seguente orario, nei giorni feriali al mattino dalle ore 10 alle 13 e la sera dalle 17 alle 21, nei festivi con orario continuato dalle ore 10 alle 21. È una tradizione secondo me importante che già nelle altre città e in altri paesi facciamo, speriamo di continuare a mantenerla e noi ci abbiamo messo tutto l'impegno possibile, nonostante le grandi difficoltà di un periodo anche di crisi, ma non voglio parlare di crisi perché vorrei guardare con ottimismo al futuro. Questo è un segno di vitalità che bisogna tirare avanti e fare le cose nel migliore dei modi. A coordinare gli eventi in programma è direttamente l'ufficio turistico del Comune di Potenza, il quale ha predisposto anche dei pacchetti turistici. Per eventuali info è possibile rivolgersi agli uffici di Piazza Matteotti. Grazie a tutti.